Take you down to a paradise city where the grass is green and the girls are ready Oh won't you please take me up Ehi su Optitude Channel, il primo canale YouTube italiano dell'Optometria Quest'oggi parliamo delle bipolari e quindi continuiamo la serie di video dedicati alla retina Le bipolari sono una popolazione di cellule retiniche che sono distribuite negli strati 5, 6 e 7 della retina Quindi lo strato 5 che è quello plesiforme esterno dove le bipolari si inaptano con cellule orizzontali e fotorecettori Poi abbiamo lo strato 6 che è quello dei granuli interni dove le cellule bipolari hanno il proprio nucleo Poi abbiamo lo strato 7 che è quello plesiforme interno dove le bipolari si inaptano con amacrine e gangliari Il ruolo delle bipolari è semplicemente quello di partecipare alla creazione dei campi recettivi Utilissimi al fine di percepire i contorni e questo concetto lo esamineremo molto in uno dei prossimi video dove analizzeremo le cellule orizzontali E poi un'ulteriore funzione delle cellule bipolari è proprio quella di modulare la convergenza del segnale Concetto che invece impareremo in questo video Vi sono circa 9 tipologie di bipolari di cui 8 sono dedicate a sinaptare con i coni e uno solo con i bastoncelli Delle 8 tipologie di bipolari che si inaptano con i coni si possono distinguere 3 categorie fondamentalmente La prima è quella delle bipolari midget o nane La seconda è quella delle S-type o blu Mentre la terza è quella delle parasol o diffuse Ovviamente sono diverse per morfologia ma sono anche diverse per funzioni svolte che adesso vedremo Le nane o midget sono presenti soprattutto nella fovea centrale e hanno la caratteristica di fare sinapsi con un solo cono alla volta Quindi c'è un rapporto di uno a uno Il che va a costruire la possibilità di avere un'alta discriminazione spaziale e quindi anche di avere un'alta acuità visiva Ecco perché è nel centro della retina che si ha la maggiore acuità visiva Proprio perché c'è questo rapporto uno a uno Pian piano che ci spostiamo verso la periferia della retina centrale Questo rapporto inizia a cambiare Infatti inizia ad aumentare e si passa da uno a uno a due, uno a tre Quindi aumenta la convergenza del segnale Ma cosa significa? Significa che per un rapporto uno a tre Io ho tre coni che si inaptano con una sola bipolare Quindi il segnale di tutti e tre i coni passa ad una singola bipolare E la bipolare ogni volta solo una certa quantità di segnale può far passare Quindi questo implica che i tre segnali che provengono dai coni si misceleranno e quindi si perderà definizione Ecco cosa significa convergenza Le S-Type vengono dette anche blu perché sono un canale di intermediazione con il circuito dei coni blu E quindi con quel circuito che si occupa di percepire le corte lunghezze d'onda Invece le parasol o diffuse sono presenti più nella fovea paracentrale diciamo E fanno sinapsi con almeno 10 coni Quindi c'è una certa convergenza del segnale E cosa implica questa convergenza del segnale se si è persa qualità e definizione Implica che queste cellule non saranno deputate a trasportare del segnale utile alla discriminazione di un target, di un oggetto Ma portano segnale che sarà utile a capire quanta luce c'è nell'ambiente esterno Quindi il loro ruolo è implicato nel valutare le variazioni di luminosità dell'ambiente esterno Ora passiamo invece all'unico tipo di bipolare dedicato ai bastoncelli Da 35, 40, 45 bastoncelli in media E ovviamente questo circuito è dedicato a percepire variazioni di luminosità dell'ambiente esterno Non certo per percepire diciamo informazioni utili a discriminare un target Infatti essendo i bastoncelli presenti nella parapovia e diciamo nella retina paracentrale e periferica Ecco spiegato perché quella zona di retina si perde capacità discriminativa Il problema è proprio la convergenza del segnale Le bipolari possono essere a centro on oppure a centro off Le bipolari dedicate ai bastoncelli sono soltanto centro on Invece le bipolari dedicate ai coni possono essere centro off oppure centro on E in particolar modo nello strato plessiforme interno c'è una suddivisione Quindi in realtà ci sono due strati, due substrati Quello più esterno dedicato alle bipolari a centro off che ovviamente si riferiscono ai coni Mentre quello più interno è dedicato alle bipolari centro on sia dei coni che dei bastoncelli Però il significato di questo centro on centro off vi ripeto lo capiremo meglio analizzando le cellule orizzontali e i campi recettivi Perché lì c'è veramente il top del top per capire cosa significa campo recettivo Cosa significa centro on centro off e come fa il sistema visivo a percepire i contorni Bene questo è il video sulle bipolari Noi ci vediamo con il prossimo optovideo Chiaramente vi invito come al solito a iscrivervi a passare dai miei social Facebook, Instagram o quel che volete Noi ci vediamo al prossimo optovideo Bella Optostar Grazie a tutti